non mi devo schiacciare no tu schiacciando bravo questo schiacciando questo ce lo prendiamo preparazione inizia e direttore produzione produzione propria pagare un acqua ma non capisci la pateta e facendo un'altra cosa dai 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 tu ci metti stai passando mi ha scacciato la menta si si no 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 dai 4 3 i i i i Grazie a tutti. Grazie a tutti.